Manuele Bozzetto in corsa alla poltrona di primo cittadino a Mussolente presenta ufficialmente la sua lista e lo fa in uno dei luoghi caldi di questa campagna elettorale, il palazzetto dello sport. Ci siamo resi conto che è il tema caldo perché è un tema sentito e perché serve una risposta nuova, una risposta diversa, una risposta che preveda non solo le competenze ma anche chi ci opera, chi ci lavora qua dentro, chi ci sta chiedendo che dobbiamo cambiare e anche perché potremmo generare lavoro. Creare opportunità dove ragazze e ragazzi potranno in co-gestione trovare spazio ed opportunità. Nel suo gruppo ci sono persone che hanno già esperienza nell'ambito dell'amministrazione, ci sono anche neofiti. Sicuramente è un gruppo composito perché siamo convinti che servano nuove energie, nuove risorse ma anche quelle esperienze e quelle competenze che diversamente non consentirebbero di poter amministrare una comunità e questo vorrà dire anche l'interfaccia con la Regione, con lo Stato, con l'Europa perché ricordiamoci che la nostra vera capacità sarà reperire quelle risorse che ci sono attraverso dei progetti mirati. Un esempio di questo riguarda proprio gli impianti sportivi attraverso denari pubblici che andremo a reperire. E poi c'è la questione della viabilità. Quello è un tema fondamentale. Noi abbiamo già fatto molti sopralluoghi, noi siamo partiti dalle periferie incontrando chi abita in quei luoghi, chi sta subendo purtroppo questa fase progettuale e siamo pronti ad andare in regione, anzi in viabilità regionale a Mestre e attraverso degli accordi di programma avere quei denari, quelle risorse a ristoro di un impatto che ricade su tutta la comunità.